signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale ultimo video della stagione per il d20 system quindi questa volta vediamo di chiudere con qualcosa di un po più leggero negli scorsi video del d20 system abbiamo parlato degli allineamenti di come funzionano e di come il master dovrebbe comportarsi quando deve regolamentare delle situazioni che riguardano l'allineamento alcuni dei più attenti tra di voi però potrebbero aver notato che apparentemente esiste un'eccezione che sembra contraddire tutto quello che è stato detto se è vero che gli allineamenti si basano esclusivamente sulle azioni e non sulle intenzioni per quale motivo tutti i non morti indiscriminatamente sono malvagi in realtà c'è un motivo anche perfettamente logico e nel video di oggi andiamo a vedere quale iniziamo col definire un classico errore di logica proprio di semantica che riguarda l'allineamento ai non morti ma anche l'allineamento ad altre creature creatura malvagia non vuol necessariamente dire cattiva persona creatura buona non vuol dire persona per bene ovviamente nella maggior parte dei casi sarebbe sempre meglio avere a che fare con dei buoni che con dei malvagi ma un allineamento malvagio non vuole necessariamente dire che la persona sia un violento o che per qualche motivo tenga un comportamento fortemente antisociale nel caso dei non morti nello specifico in più c'è anche da considerare che i non morti non sono dei tizi molto pallidi e maciati sono creature totalmente aliene a quelle che è la vita che hanno anche dei bisogni delle necessità degli impulsi e delle reazioni agli stimoli che sono difficilmente classificabili all'interno di quello che è il classico sistema dell'allineamento in realtà ci sarebbe un sacco da discutere su quella che è la biologia la psicologia dei non morti e su come cambia rispetto a quella degli altri esseri viventi ma non è qualcosa che riguardi prettamente l'argomento di oggi piuttosto prossima stagione ne parleremo in un altro video nel video sugli allineamenti abbiamo visto che perché un'azione conti allineata deve essere fatta da una creatura senziente in grado di comprendere quello che sta facendo se andate a controllare sui mostrari vedrete che tutte le creature non intelligenti o anche molti animali che hanno troppa poca intelligenza agiscono distinto sono considerati sempre neutrali questo però non sembra valere per i non morti non intelligenti uno scheletro ad esempio non ha alcun valore di intelligenza non è in grado di agire volontariamente si limita a eseguire semplici ordini che gli vengono dati da chi lo controlla uno scheletro messo a guardia della porta di un dungeon passerà il resto dell'eternità a fare la guardia a quella porta senza fare nient'altro e se nessuno dovesse passare davanti quella porta o andare a disturbare lo scheletro lo scheletro semplicemente non farà nessuna azione come potrebbe essere il fatto che una creatura priva di volontà che non compie azioni sia comunque allineata al male questo vale anche per altri non morti intelligenti e senzienti ma che comunque per loro natura per loro scelta non abbandonano mai aree specifiche le mummie per esempio difficilmente abbandonano la tomba da cui sono state messe a sorveglianza come farebbe la mummia a compiere atti malvagi se sta letteralmente chiusa in una tomba senza dare fastidio a nessuno finché qualcuno non va a disturbare lei il discorso vale anche per non morti che hanno un'intelligenza ma non superiore a quella di un animale ad esempio i festrog sono creature pericolose che predano i mortali ma le loro azioni non sono diverse da quelle che potrebbero essere quelle di un lupo o di una tigre sono predatori mangiano la gente ma nessuno direbbe che una tigre o un lupo sono creature malvagie semplicemente perché agiscono distinto non c'è un discernimento dietro le loro azioni vale lo stesso discorso anche per quei non morti intelligenti ma dotati di un istinto e delle necessità predatorie un vampiro deve succhiare sangue alla gente per poter proseguire la sua esistenza il vampiro è una creatura senziente anche intelligente però perché le sue azioni dovrebbero essere diverse da quelle di un avventuriero che abbatte un cinghiale per poi mangiarselo non sarebbe considerata un'azione malvagia cacciare per nutrirsi alcuni non morti sono spinti a predare uccidere immortali non per mangiare ma per riprodursi i vrat per esempio per creare altri vrat devono uccidere degli esseri mortali potrebbe essere considerato malvagio se non fosse che ci sono delle creature viventi che fanno lo stesso il divora ragni per esempio deve uccidere una preda e deporgli le uova all'interno per poter far sviluppare i piccoli uccide le persone per riprodursi e se andate a controllare è considerato una creatura neutrale la vera differenza tra i non morti e tutte le altre creature sta proprio nella natura stessa dei non morti i non morti non sono uno dei tipi di mostro che si può incontrare che hanno alcune caratteristiche peculiari come gli umanoidi sono diversi dai parassiti i non morti sono delle agghiaccianti aberrazioni la cui solo esistenza va contro tutte le regole del creato e della vita stessa molto spesso questo fatto viene ignorato perché nel sistema meccanico del d20 system non c'è una regola specifica che vada a gestire la cosa ma la presenza dei non morti è una fonte di male corruzione e entropia nel mondo il solo fatto che i non morti esistono va a corrompere la natura dell'esistenza per dire in parole povere nel mondo del d20 system non sono i non morti ad abitare in luoghi lugubri quei luoghi sono lugubri perché lì dentro ci abitano i non morti per un non morto esistere equivale a compiere un atto malvagio per questo motivo qualunque azione essi compiano indipendentemente all'allineamento di quell'azione viene contaminata e influenzata da questo male primordiale che si portano dietro per quanto un non morto potesse sforzarsi di compiere buone azioni il massimo a cui potrebbe aspirare è che quelle azioni fossero neutrali perché il bene dell'azione verrebbe annullato dal male che il non morto compie compiendo quell'azione l'unico modo che un non morto avrebbe per eliminare questo male a priori sarebbe quella di distruggere se stesso perché distruggere un non morto è sempre una buona azione dato che diminuisce la quantità di male nel mondo ma a quel punto non esisterebbe più il non morto e quindi di conseguenza neanche suo allineamento diciamo che per questo video è tutto come sempre naturalmente mi piacerebbe sapere da voi come gestite nelle vostre quest queste situazioni se vi è mai capitato di dover discutere in merito soprattutto la classica situazione in cui arriva un giocatore che vuole giocare un personaggio non morto e non si riesce a fargli capire che no non è possibile fategli guardare a questo video o nel caso se abbiate non morti buoni nella vostra ambientazione e come abbiate fatto a risolvere la cosa come come avete fatto a inserirli mantenendo la coerenza con l'ambientazione scrivetemelo nei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il Master Kai noi ci vediamo nei prossimi video ciao